Signore e signori, bentornati a DiRule. Con The Legend of Zelda Ecos of Wisdom, Nintendo estrae infatti dal cilindro una nuova creatura ricca di colpi di bacchetta magica ed evocazioni, proponendo inoltre il primo capitolo della serie regolare con visuale dall'alto dal 2013, nonché il primo sviluppato internamente ad avere per protagonista la mitica principessa. Ma a questo punto la domanda è, con la sua avventura, Zelda sarà davvero riuscita a replicare i fasti raggiunti nel corso degli anni dal collega Link? Ebbene, seguiteci in questa meravigliosa terra incantata, se volete scoprirlo. Va bene, tanto vale dirlo subito, sono i poteri della principessa Zelda a rendere unica questa nuova avventura. La disposizione dei nemici, la morfologia dei territori e le architetture degli edifici sono infatti sostanzialmente identiche a quelle che tante volte in passato abbiamo incontrato con Link, ma qui sono tuttavia le abilità e le caratteristiche della protagonista a diversificare l'approccio di gioco. Zelda può ad esempio usare Sincronia, che è una versione semplificata di Ultramano che la connette ad un determinato elemento così da poterlo spostare per la mappa. E poi c'è Sincronia inversa, che funziona sostanzialmente allo stesso modo, ma che permette alla nostra eroina di assecondare anche i movimenti dell'oggetto in questione, piuttosto che di influenzarli. Ad ogni modo, il movimento della principessa è del tutto slegato dalle canoniche direzioni prefissate e inoltre, contrariamente al Link degli episodi 2D, Zelda è in grado di saltare fin dall'inizio. Questo rende quindi l'esplorazione della mappa più acrobatica e stimolante, e senza contare poi che genera anche sezioni platform piuttosto atipiche per la serie. A completare poi la componente action del gioco si aggiungono le area visuale laterale e soprattutto il lock-on, un sistema questo sorprendentemente utile per mirare e per agganciare oggetti ma soprattutto nemici. Tuttavia, va detto che l'abilità che caratterizza l'esperienza in modo più marcato è rappresentata qui dalle evocazioni. Zelda incontra infatti la Fatina 3 durante l'Incipit, che le dona un bastone magico in grado di copiare e incollare oggetti e mostri. Ogni replica ha però ovviamente un proprio costo, ma le possibilità offerte sono comunque entusiasmanti. Rappresentano qui infatti una versione ancora più intuitiva dei veicoli di Tears of the Kingdom, senza però avere il loro potere devastante di generare soluzioni alternative. Ecos of Wisdom lascia infatti liberi di sperimentare e di creare, certo, ma non si fa comunque problemi a porre dei vincoli dove non vuole che il giocatore vada. Le repliche poi si dividono principalmente in oggetti che permettono di esplorare e raggiungere nuovi territori e mostri da selezionare in base alle esigenze per combattere i nostri nemici. In alcuni brillanti casi i due schieramenti però si congiungono, come ad esempio i ragni, che se lasciati in libertà aggrediscono ma che se posizionati invece vicino a una parete possono essere utilizzati per scalarla. Va comunque detto però che l'engine non è proprio brillante come quello di Breath of the Wild, a livello fisico infatti certi oggetti affondano mentre altri galleggiano e a livello chimico alcuni vanno a fuoco e altri si spengono. Tuttavia diciamo che non si tratta di meccaniche fluide e apparentemente stregonesche come quelle dei recenti Zelda 3D. Sia chiaro comunque tutto funziona bene, ma si vede che certi oggetti sono pensati per scaturire certe reazioni che non avvengono in maniera organica. Un difetto vero e proprio invece rappresentato dalla gestione del menu delle repliche. Nintendo ne ha infatti creato uno semplice e chiaro che però tracolla nel caos una volta raggiunte decine e decine di repliche. Questo è tra l'altro il primo The Legend of Zelda che ripropone uno stesso stile grafico, ossia quello del remake di Link's Awakening, senza però rappresentare un diretto seguito. Inoltre in questo episodio non c'è alcun rapporto iniziale tra Link e Zelda e l'incipit narrativo è dunque rappresentato da misteriosi squarci che inghiottono la terra di Hyrule e con essa i suoi abitanti, tra cui ovviamente Link. Zelda tuttavia riesce a salvarsi e con l'aiuto di Tree si trova addirittura a disporre del potere di eliminare i sinistri tentacoli neri che ammantano terre e popolazione, attraversando quindi dei varchi dimensionali che la conducono nel mondo del nulla. E col ritorno di una formula più tradizionale qui torna anche una progressione narrativa interna, quasi assente negli ultimi capitoli tridimensionali, e sebbene la trama non brilli per profondità, offre comunque personaggi gradevoli e con un registro più che altro adatto ai bambini. Diciamo che a conti fatti questa Hyrule è un ibrido tra quella di A Link to the Past e quella di Breath of the Wild, da cui raccoglie anche alcune location oltre che nuove regioni. In generale poi la mappa è apprezzabile, anche se forse sarebbe ora di azzardare un po' originando magari nuove razze ed ecosistemi, ma c'è comunque da dire che a livello ludico è liberamente esplorabile e soprattutto senza divisioni inschermate. E questo anche in verticale, poiché ad esempio è possibile salire sugli alberi e attraversare intere porzioni di mappa saltando il sentiero ideale. Il fattore climatico è invece sintetizzato in modi funzionali ma meno eleganti rispetto a Breath of the Wild. Ci sono ad esempio zone particolarmente calde o fredde in cui è bene dotarsi di pozioni adeguate, ma non c'è comunque un indicatore in tempo reale che misuri la temperatura esterna. Tempeste a parte dunque, l'unico fenomeno atmosferico presente qui è la pioggia, ma anche essa è circoscritta ad alcune aree e, come se non bastasse, non figura nemmeno l'alternanza giorno-notte. Ma è dal punto di vista strutturale che il gioco potrebbe segnare una nuova era per l'intira saga. L'ultima fatica di Nintendo infatti osa dove Tears of the Kingdom non si era addentrato, poiché tenta di mixare la formula classica degli Zelda con quella open world. E al netto di alcune piccole sbavature, diciamo che ci riesce anche con successo. Certo, non è comunque consentito a girare intere sezioni di gioco o risolvere magari enigmi in maniera del tutto imprevedibile, ma questi ultimi sono comunque abbastanza approfonditi da lasciare ampio spazio alla creatività del giocatore. Inoltre, subito dopo l'Incipit è possibile anche esplorare quasi per intero Hyrule, ignorando quindi la quest principale, ed è qui che si annida anche la principale incoerenza del gioco. A differenza infatti di Breath of the Wild, certe missioni sono disponibili soltanto dopo averne superate altre, e raggiungendole dunque prima del previsto spesso non propongono situazioni abbastanza interessanti. Come se non bastasse, poi si sbloccano eventi fondamentali soltanto a tappe, mentre l'ordine dei dungeon è libero ma soltanto in parte, e questo poiché sono infatti divisi a scaglioni. Questi ultimi poi sono ricchi, complessi e a più piani, e insieme ai boss tornano anche i miniboss e le piccole chiavi. Infine, esistono anche aree visitabili in ogni momento e slegate dalla missione principale che arricchiscono l'open world, e non ci riferiamo soltanto agli incarichi secondari, ma anche ad alcune grotte più grandi che ripagheranno sicuramente il vostro desiderio di esplorazione, questo è garantito. Uno dei difetti più significativi del titolo, invece costituito dal framerate, risulta anche particolarmente evidente giocando connessi al televisore. Nelle aree aperte il framerate è infatti costantemente traballante, ed è buffo questo perché ad esempio, anche moltiplicando le evocazioni o anche incendiando interi cespugli, la situazione non è che peggiori granché. Sembra di fatto più un limite connaturato all'engine di gioco, lo stesso che affliggeva tra l'altro anche il remake di Link's Awakening, che evidentemente gli sviluppatori in questi anni non sono proprio riusciti a sanare. Per quanto riguarda invece lo stile grafico non possiamo lamentarci. Certo, non sarà il massimo dell'originalità, ma comunque Echo Sob Wisdom è molto piacevole, e sembra infatti un mondo fatto di pongo, con i personaggi kawaii e l'acqua che pare sgorgare da un tubetto di tempera, anche se dobbiamo ammettere che certe tematiche della trama non si adattano proprio benissimo all'aspetto scelto da Nintendo. La componente sonora è poi pura eccellenza. Sarà che sono state coinvolte le stesse figure chiave di Tears of the Kingdom, ma le melodie e gli effetti sono un passo avanti rispetto al comparto grafico, con strumenti diversi associati ad ogni regione e ogni popolo, e musiche che puntano più sulla profondità, che sull'immediatezza. A conti fatti il menu delle repliche di The Legend of Zelda Echo Sob Wisdom è caotico, il suo open world pur in miniatura è imperfetto e il framerate delle aree aperte è costantemente incerto. Ma nonostante tutto questo siamo comunque davanti al miglior The Legend of Zelda 2D degli ultimi anni. La creatura di Nintendo propone infatti un'avventura di una gradevolezza rara, di una creatività debordante e soprattutto che lascia grande libertà al giocatore senza perdere mai di vista l'intuitività delle sue meccaniche. Le repliche poi sono stimolanti da raccogliere e da utilizzare, e sussurrano continue soluzioni alternative all'utente. Infine poi c'è la coraggiosa ibridazione tra la formula classica della serie e quella open air, che seppure migliorabile è indubbiamente riuscita. Speriamo insomma sinceramente che il prossimo The Legend of Zelda possa ripartire da qui. Anche voi covate questa speranza? Ditecelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nemmeno una recensione, un provato o una news relativo a questa leggendaria saga di Nintendo. Prima di chiudere il video però mi raccomando, lasciate un bel mi piace e suonate la campanellina, così non perderete i nostri contenuti in futuro. Noi invece ci rivediamo alla prossima recensione, sempre qui, sul canale di Multiplayer.it